Ehi la, salve a tutti, sono ThePlayer96, eccomi qui con Ale TheAssassin. Ciao ragazzi! Allora, cominceremo questa nuova serie in cui faremo una sopravvivenza su Minecraft. Siamo spawnati in una merdosissima giungla. E' come in ogni inizio di Minecraft, prendiamo legna. Io intanto butto giù qualche albero. Sì, sì. Questa serie speriamo che durerà il più possibile. All'inizio volevamo fare un hardcore, no? Sì, sì, vogliamo fare un hardcore, però date le nostre scarse capacità di sopravvivenza, saremo morti non so quante volte. Quindi ogni volta creare un nuovo mondo. Beh, prima o poi lo dovremmo fare, eh? Sì, sì, quando finiamo questa serie. Sì, sì. Ok, poi informo che gli episodi saranno di massimo 10 minuti. Sì, sì. Non di più, perché sennò è un casino a postarli. Sì, sì. E' a caricare. Diciamo che questi video li metterò un po' in aggiunta ai miei soliti. Adesso tenterò di caricare almeno un video al giorno, se riesco, però. Oggi questo qui dovrebbe essere il terzo video della giornata, ormai. Sì? Sì, ne ho già caricati due della header. Vabbè, che duravano 1-8 e l'altro 6 minuti, però. Ok, direi che come primo obiettivo sta già diventando notte, quindi sarebbe buona idea costruirci un piccolo rifugio. Aspetta va che abbasso il volume di Minecraft, perché la musichetta rompe. Ma sì, quella musica del Kaiser. E intanto il server sembra regger bene, quindi a posto. Non capisco perché sulla serie della Ocean, con questo col portatile, mi fa degli scatti allucinanti. Invece su un mondo normale è tutto fermo, a posto. Misteri. E intanto... Andiamo a fare un rifugio lontano dalla zungla, per favore, perché se no... Sì, sì, usciamo dalla giungla. Vediamo se riusciamo a trovare una pianura o qualcosa del genere. È che io sto... sto giocando con Pichisaurus, quindi... Ok, come... ho appena finito di dire che non mi faceva scatti su questo mondo, invece. E invece? Eh, ma purtroppo è un portatile, è un pochino deboluccio, quindi... Devo accontentarmi. Perché con quel fisso del Kaiser, se faccio due al commentary, la seconda voce viene in ritardo. Perfetto, io non ti vedo neanche più, ti ho perso. Di già, perfetto, perfetto. Perfettico. Sono vicino al lago, al mare, al fiume, al nulla. Nulla. Ok. Arrivo. È che ero rimasto indietro. Vedo un ghepardo. Eh, scusate. Eh, devo schiarirmi un po' la voce. Alla faccia del schiar... Eccoci qua. Eh, io sto venendo incontro di qua prima. È ancora giungla di qua? Eh, purtroppo sì. Che due cocomi... Cosa è che... Cosa è che ti dico? Credo che sia un'isola. Esatto, andiamo via mare. Metti una crafting table che facciamo delle barche. Sì, esatto. Ce l'hai la crafting? Sì. Sì, 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 ce l'ho io. Ok, mi faccio una barchetta. Fatto. È appuntata barchetta. Ecco. Finché la barca va, lascia l'andare. Ebbè, è partita via la barca. No, il problema di sta merda di barca è che è blu capa adesso. Ma no, abbiamo un'altra giungla anche davanti. Che palle. Si, lascia stare, va. Sto scattando come un maiale in calore, però. Sto facendo finta di niente, quindi continuiamo a navigare. Mamma. No, è tutta giungla. 360. Ma che palle. Ho il mouse che mi fa i 360 qui sul portatile. Perfetto. Adorabile. Dai che forse qua finisce la... No, no, frena, barca del cazzo. Ok. Oh, dove c'è? Barca di merda, mi sa che mi vado a schiantare. Eh, anche io mi sono schiantato. E' da me, da vattene, esci di sta micchi di barca. Non si è rotta strana. Lascial'andare, aspetta che lo spingo. Addio barca. Oh no. Ma catta ancora... Madonna me, stavo cadendo giù. Se questo Marzone lo smette di farmi i 360, Vai a sbattare. Guardate, 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 guardate. Guarda. Dopo di vederti la registrazione come mi fai 360. Mamma. Che mi sa che la prossima volta stacco il mouse che ho sul fisso. Intanto qui è ancora tutto giù. Ma, ma ha tirato una lagata. Vecchio, io sono bloccato di nuovo. Vedo solo i tuoi piedi e il tuo scenario. Porca merda. Prova a uscire e rientrare. C'è stato un picco allucinante nel server di mille, di millisecondi. Intanto lì vedo maiali e ho trovato una pianura finalmente. Vecchio, è qualcosa di inconcepibile. Vecchio, è incredibile come mi stia raggando. Ah, non dirlo a me, guarda, mi si sta piantando mica. Quando registriamo la prossima volta, registri su casa mia che va molto meglio. Ma perché dove sei? Eh, sono giù a casa dei miei nodi. Io sto facendo finta e niente, ma sto andando a due FPS però. Mi sto venendo al dubbio che è meglio che continuino la registrazione un'altra volta. Perché guarda... Beh dai, ormai ci mancano due minuti, finiamo per oggi. Sì, 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 sì. Poi continueremo. Ma vai! Devo riuscire a fare una spada! Oh! Il mouse che non si muove. Il mio problema è che devo riuscire a camminare, è quello il mio problema. Ah, perché proprio non cammini? Mamma mia! Ma prova a uscire e rientrata al server. No, 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 ok, adesso va bene. Ah, buono. Che intanto ho trovato dei carinissimi maialini. Ma va, uccidili. Eh beh, carne. Carne! Carne! Ok. Non riesco a... Ah, no, no! Ah, ah! Io intanto giustamente ti ho perso. Sono andato dritto. Ho seguito la re... Eh, lana, pecore, mucche, assassini. Uh, carbone. Cioè, appena riesce a muoverti trovi qualcosa di uscite. Sì, esatto. Sono finiti i maialini. Guarda quante pecore. No, sono solo due. Sono solo due. Cosa dico quante? Dobbiamo farci due letti, quindi ci servirà sei di lana. Sono già due. Intanto sto accumulando un po' di aia di cibo. Io intanto sto... E indovina cosa c'è... Ho trovato del fottuto carbone. Indovina cosa c'è qua vicino a me. Tu sai benissimo che i piccoli di legno sono delle merde. Sì, sì. Dai, ti sei rotto. Ah. Mai fidarsi dei piccoli di legno. Ok, intanto sto facendo avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Piazzo qui la crafting table. Mi mangio due bistecche. Ma sì, dai, mi mangio il pollo crudo. Ecco, ecco. Sapevo io, sapevo che mi avvelenava. C'è una possibilità su 100 che ti avveleni il pollo crudo e l'ho beccata proprio io al primo colpo. Si sa, la tua classica fortuna. Sì, sì, veramente. Ok, mi crafto una cesta e poi... è quasi finito il tempo. Abbiamo neanche un minuto. Ho deposito la roba più importante. Io ho già 22, 23 di carbone. ho trovato per culo nel... Il problema è che io adesso mi sono... Non so più dove sei. Ho trovato... Prima che finisca l'episodio voi non state vedendo assolutamente niente ma proprio è una vostra impressione. Ah, ecco, t'ho visto, t'ho visto. Ah, mi hai visto? Oh, buono, perfetto. Stavo usando il comando per teletrasportarti. No, 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 ecco. Ok, allora aspetto che arrivi qua per mettere fine all'episodio. Ecco che intanto metto dentro la cesta il... Lucarbene. Carbure che ho preso. Sì. Perfetto. Allora, per questo primo episodio e questa nuova serie è tutto. Da The Player 96 e Ale The Assassin è tutto. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.